L'elite La ricerca, la scienza, la tecnologia, il progresso. Perché grazie alla tecnica, la scienza, la tecnologia soprattutto, il mondo può cambiare. Il mondo si può evolvere. Il mondo può avere altri tipi di scenari. E questi scenari nuovi possono mettere in difficoltà l'elite. Possono metterla in difficoltà. E questo è successo, ve l'ho raccontato, anche nei confronti del potere della Chiesa. Sapete che il 1600, sino al 1600 c'era un periodo di oscurantismo totale. L'ignoranza e la povertà erano le basi del popolo. Il popolo non sapeva, ignorava. Non avendo ricchezza, non avendo soldi, non avendo potere, ovviamente era molto facile da gestire. E con l'avvento degli illuministi invece, beh, no, le cose cominciarono a cambiare. Cominciarono a cambiare perché incominciavano a mettere al centro di tutto l'uomo, il suo bene comune e soprattutto la forza dell'intelligenza, la forza del pensiero. Il pensiero è anche prestato al progresso, alla tecnologia, al rinnovamento. Ma rinnovamento significa cambiare. E chiaramente chi sta al potere non vuole che si cambia. E questo ve lo bene o male è raccontato anche. Ma pensate che è cambiato qualcosa dall'epoca ad oggi? No, mai. Questo è successo nell'impero romano, durante l'impero romano, è successo durante qualunque forma di potere, di regime e di dominio. Ancora ad oggi noi siamo in questa situazione. Purtroppo, forse lo siamo ancora più di prima. Perché questo? Ma perché siamo ad un livello di tecnologia così elevato oggi come oggi, dove veramente possiamo permetterci di tutto. Ma al punto tale che l'uomo potrebbe anche, guarda, se la tecnologia e la ricerca e la scienza venisse veramente messa a disposizione per il bene comune e per il benessere di tutti quanti, secondo il mio punto di vista potremmo arrivare quasi ad una sorta di vita veramente in armonia. E cosa intendo dire? Adesso arrivo subito al motivo. Perché parliamo ad esempio di trasporto. Noi sappiamo bene che ci sono moltissimi progetti di auto che utilizzano carburanti per nulla inquinanti, che però sono progetti nei cassetti comprati e nei cassetti delle multinazionali e soprattutto sì di queste grandi case produttive, quando parlo di multinazionali parlo dei grandi poteri, le grandi corporazioni del petrolio o delle auto e tutto quanto il resto, che tutto questo non lo permette. Perché nel momento in cui si dovesse creare una forma di energia alternativa che c'è, esiste e da molto tempo, ovviamente metterebbe in grandissima difficoltà tutto. Perché a questo punto tutto il macchinone del petrolio, che si fa? Tutti gli impianti che ci sono, tutti i distributori, tutte le auto già fatte, insomma andrebbe gambe all'aria. E considerate che queste lobby sono al potere. E quindi come pensate che questi qua possano permettere un cambiamento del genere? E praticamente è difficile concepirlo questo. E quando vi parlo di questo vi parlo anche dell'energia, perché quando parlo di petrolio e via sto parlando anche di energia. Ma voi sapete che è scientificamente provato che basterebbe un'ora dell'energia, di al sole a mezzogiorno praticamente, quindi riuscita a convogliare e a, mediante la tecnologia insomma, riuscita a trasformarla in energia da utilizzare per l'uso civile e industriale anche, insomma quest'ora potrebbe essere sufficiente alla gestione energetica di un anno intero nel mondo. Questo è scientificamente provato. Il problema è che però non si deve andare in questa direzione. Perché? Perché ovviamente metterebbe in discussione tutta una serie di poteri molto forti. E quindi di conseguenza ci viene data come alternativa al problema energetico, quindi quando parlo di problema energetico non sto parlando soltanto dell'utilizzo e del costo che ha il petrolio, il carbone e tutto quanto il resto, ma soprattutto il livello di inquinamento, il livello di danni ambientali che provocano questi combustibili fossili. E quindi ci dicono, sì, vabbè, c'è l'eolico, c'è il fotovoltaico, ma che sono iniziative molto blande, molto blande e soprattutto tenute dove non c'è una grandissima spinta su questi settori. hanno fatto ricerche, ad esempio, sull'utilizzo di tipo di paleoliche promesse sotto i mari utilizzando le maree. Voi immaginate la marea, immaginate il movimento del mare. È una forma di energia inesauribile. Inesauribile. Oppure la geotermia. Immaginate che dalla Terra ci sono praticamente vapori di una pressione pazzesca. Questa è un'energia costante che c'è, esiste, per millenni di anni ci sarà. Allora voi immaginate che noi abbiamo la possibilità di poter usare energie esistenti, perché il movimento del mare è un'energia esistente e costante. Perché è proprio dagli oceani che viene, diciamo, si genera da questo scambio degli oceani. E dopodiché anche la geotermia. Insomma, il centro della Terra, voi sapete come è fatto. E questa è energia costante. Il Sole è un'energia costante. Quindi come mai la ricerca non va in quella direzione? Ve lo dico perché metterebbe in discussione determinati poteri e soprattutto queste forme di energia sono energie che vengono da nulla. E venendo da nulla è un'energia che costerebbe troppo poco. E questo, alla fin dei conti, nella logica del mercato, ve l'ho detto, sin quando la civiltà umana avrà la moneta, la moneta e tutto sarà regolamentato in questa maniera, sarà sempre un conflitto enorme. Sarà difficile teorizzare e arrivare a una sorta di società che si muove veramente per il bene comune. Perché c'è il profitto, c'è l'interesse. E non conta niente se genera scorie, inquinamento, non importa. Questo è il problema di fondo. Ecco perché spesso lobby multinazionali sono dietro determinate organizzazioni di carattere economico mondiale, insomma, privato, e determinano, ripeto, l'agenda dei governi. Perché alla fin dei conti tutto deve andare verso una direzione. E questo, francamente, è veramente inquietante. Perché non ci permette il cambiamento di passo, non ci permette di andare oltre. Siamo, oggi come oggi, in una sorta di tecnologia bloccata. Vi faccio una domanda. Ma voi pensate che... Ecco, noi quando parliamo di robotizzazione, di macchine e via, pensiamo che queste macchine e robot devono prendere, diciamo, il posto dell'uomo. Quindi, beh, a sto punto arrivano robot, macchine e tutto quanto, e l'uomo non lavora più. Perché loro prendono il loro posto. Ma se voi ci pensate bene, con la grande tecnologia, e se lo sforzo umano andasse verso la robotizzazione che permetterebbe il miglioramento della vita dell'uomo, quindi, non vederla come una sorta di mezzi e macchine che devono prendere il lavoro dell'uomo, ma che devono generare ricchezza a favore dell'uomo. Insomma, se veramente uno si sofferma un attimo, grazie alla tecnologia, se ben fatta e ben organizzata, si potrebbe veramente teorizzare, quasi, che l'uomo potrebbe anche permettersi di lavorare più. Se queste macchine venessero messe a disposizione dell'uomo, ma per il benessere dell'uomo, quindi, grazie alla scienza e alla ricerca, nuove forme di, diciamo, alimentazione, generate in un certo modo, o grazie alla tecnologia, la robotizzazione a disposizione, messa a disposizione per il benessere dell'uomo, si potrebbe arrivare, chiaramente, gradualmente, a teorizzare addirittura una sorta di società che quasi quasi potrebbe anche far meno del denaro. Perché il problema è questo, sin quando ci sarà moneta, sin quando ci sarà il sistema che vi ho raccontato, il sistema di questo potere molto forte di finanza, banche e, diciamo, di queste agenzie private, monetarie, e tutto quanto il resto, sarà molto difficile che noi riusciremo a trovare un equilibrio ed una, tra virgolette, pace, diciamo, e armonia sociale. Sarà molto difficile. Quindi, intendiamoci, quello che vi dico è, diciamo, è un, diciamo, ci sono studi su questo e si può arrivare a questo. Però l'importante è una presa di coscienza e capire se il sistema che noi stiamo vivendo è un sistema che ci darà benessere, ricchezza e ci renderà la nostra vita più bella o se noi dobbiamo andare verso sistemi diversi, sistemi che effettivamente riescono a togliere certe catene che oggi come oggi, anche se non le vediamo, ce ne troviamo. E sto parlando di questa corsa, di questo inseguimento del del benessere, della ricchezza, corsa che ci viene generata soprattutto dal debito che ci è stato messo. perché il debito per noi, ragazzi, è una zavorra che lo vogliamo chiamare debito pubblico perché poi dicono guarda caso che tutti quanti noi abbiamo 30-40 mila euro sulla nostra testa che è il nostro debito. Un bambino nasce e si trova già indebitato. Già questo bambino deve correre, deve produrre, correre per pagare questo debito. Quindi avete capito che hanno impostato una società che è sul debito. Siamo tutti in debito e tutti dobbiamo correre a pagare questo debito. Ma a chi dobbiamo pagarlo questo debito? A queste istituzioni che vi ho anche detto. Quindi che siamo? Nasciamo schiavi di questi. Giusto? Allora, sin quando non concepiamo e non ci rendiamo conto che dobbiamo passare, andare oltre questo sistema che ci è stato creato, ci è stato generato dall'elitto del potere, l'elitto del potere parlo, ripeto, banche, finanza, grande industria, tutto quanto il resto, beh ragazzi, sarà dura per noi vivere una vita in vera armonia e in vera pace sociale ed economica. Quindi io vi chiedo il senso di questo momento è semplicemente questo, l'importanza della tecnologia, l'importanza dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo. Ultima cosa, voglio parlare di uno strumento come internet. Meno male che c'è. Perché internet è l'unico strumento che oggi come oggi non riescono a dominare. Perché se parliamo delle grandi network televisivi, giornali e via, beh, sono anche queste delle multinazionali. delle corporazioni, è difficile che certi messaggi possano transitare. Grazie al mezzo di internet che non è altro che un contenitore dove c'è la conoscenza dell'umanità e soprattutto c'è la possibilità di comunicare e di dire in maniera libera e indipendente quello che si pensa, beh, internet è frutto della tecnologia. Come vedete, internet ha messo in crisi Gheddafi, internet ha messo in crisi Mubarak, Ben Ali, ha creato questa sorta di primavera araba, questa rivoluzione in, come si chiama, nei paesi medio orientali. Se non ci fosse stato Twitter, internet, tutto quanto, sotto questo non sarebbe accaduto. Ecco l'importanza della evoluzione della tecnologia, tutto quanto. L'uomo può semplicemente sopravvivere e semplicemente migliorare la propria qualità della vita grazie a questo. Senza questo c'è il blocco, c'è la stagnazione, c'è l'oscura, cioè rimaniamo fermi, ma non possiamo rimanere fermi perché dobbiamo operare sempre per trovare una migliore combinazione per una migliore qualità della vita e per una migliore vita ovviamente per tutti.